Che è succedo? Eeeh, non lo so, ma lo sta trollandomi sempre Ah, ok Deve accettare Pronto, pronto Come, scusami? Devi entrare nella lobby C'era bugato, vai, let's go Oh mio Dio Quanta domanda Bella questa Speedrun Comunque, anche la draft di prima mi ha facciuto un sacco Se non è brand faceva un po' cacare Per il resto era Così, brand faceva cacare, secondo te? Oh sì, ero contro la tua Samira Non era il massimo, poi si poteva migliorare Magari Liglia sarebbe stata meglio Ma c'era le picche che volete bannare? Non bannate Skarner No, 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 lo voglio piccare Lo voglio piccare Skarner Lo possiamo flexare in tre ruoli Lo possiamo flexare Support non lo so giocare, però Vabbè, tu quello provi Se vuoi lo imparo, ok È divertente, sì Viego? Un po' bannare Samira allora, che è annoying Anything, anything Anche non bannare niente È una play Ok Oddio, pantheon first pick Potrebbe essere la mid Che ha bannato Zoe Ah, ce l'abbiamo Skarner Eh sì Prendiamo sempre di carry, Creon Zerri mi è andata benissimo Però magari tra un più coglioni Wander Exile No, che sembra fa schifo in strada Ah, fa schifo Peggio Prendi via Asce, ma hai Katlin Possiamo giocare una pushlane Morgana, Katlin, Karma, Katlin Io spawno leviare con Skarner Morgana è fuckedissima Sia con Skarner che con Katlin Contro Draven ti giocarei bravo È stata anche buffata Karma, ho sbaglio? Oggi Credo Su Sì Sì, sì, è stata buffata Sì, è stata buffata Eh, lo vedi Non lo so, però Sì, è stata buffata Purtroppo Cosa dobbiamo giocare qua? Io ti direi Blitzkamp Stingage Stingage Dei, dottore, ti giochi a Galia Sì, anche bene, mi sembra Naut O Nautress Forte, sì Certo Sì Nautress Nautrell Eppure se vuoi flippare una Lux Loro dopo vanno Naut Loro Quindi devi calcolare quello No, ma se loro vanno i Braum Su questo Nautress Non è una merda Sì Ok, ok Topli non lo possiamo blindare No Fagli piccare Brum Voglio vedere che fa contro Skarner Sì, prende la Brum Oddio, un Thresh non mi piace qui Io gioco Exosti di solito sul support Mi piace molto come rune Eh, come Summer Spell Set Ci sono dei top plan che rompono gli scudi? Renekton Ah, sì Ma è buono Renekton contro il loro? Non lo so, io dicevo perché ti mi hai chiesto la domanda Molto specifica degli scudi Io giocherei Vayne, posso? Vai, vai Stamme anche Gragas, è bellino Però sì Vado Gragas, dai Ma ci manca P Ci ha salvato La parola del fondatore Fragola No, è... Perché Vayne è good contro due Ma un po' meno contro gli altri Gragas è good contro tutti, capito? Quindi ci sta Mi ha convinto Il GOAT Ma... Non abbiamo troppa P? Se è che ti ne va behind No, no, credo siamo ok Cioè, sì Cioè, siamo un po' ai VIP Però, beh, sti cazzi La scanna non fa danni AP Ma poi la non è che ti minimizzano chissà come Cioè, è dovuto andare full AD di nuovo Cioè, un pain Guarda, frango l'ha trollato di nuovo È andata Oh, ma sono gli stessi di prima Oh, ma sono gli stessi di prima Non c'è fatto caso Allora, andassero FK Poverini Go FK, please Oh So, we don't waste time Nella rank 1 challenge Ragazzi, se vogliamo creare tifo Per dei rivali Per dei rivali Dovevo creare anche l'odio Quindi Se qualcuno deve prendere questo proiettile Lasciate che c'è quello più abituato a farlo Vado la build imbarazzante io, va bene Vai, vai Come è meglio Aftershock Come vedi Aftershock Credo che sia leggermente meglio Gioco con la sella guanti in autopilot Però Aftershock è meglio Bene, è onesto, dai Almeno, perché? Che me manca, inculati Come clear on the scanner? Full clear, oppure Level 3 E priorità, ragazzi Top 2 bot Scusa, cosa che mi hai chiesto? Se full clear o vengo al 3? Sì E Posso fare entrambe le cose, in realtà Il gank al 3 è forte Di scanner Quindi posso startare Ma può anche invadere? Posso invadere, volendo Sì, non è Ma se è un botto da anno fa Non so bene come andrà sto praio Non so bene come andrà sto praio Non so bene come andrà sto praio Non so bene Dipende da quanto è forte trash La praio bot Però se ho praio bot Forse possiamo anche invadere altre su Diana Anche se Penso che fa starti raptor, immagino Se riesce a mettere una ward Satoz dopo la prima wave Se push È un favore Eh, non la praio ce l'ho a lui Mi sa la bot Ok, allora start a bot Ti va Ah no Ah no Ah no No, mi sa che hanno preso solo le... Le aveva le asce Ma con quest'car n'è stato nerfato Non so cosa ne è stato nerfato Eh, arrivo nel 2 Posso invadirci? Ah, vai, vai, dritto, dritto, dritto Ma non è così chiara, gang Ho l'exos comunque Ripenderemo? Ah, mid è molto low Io vengo, ma Quindi se lo chiediamo... Posso abbassare Posso cabbano? Anche io sono un po' low Ok Loro sono le bot Se riesce a schifare i campi ci fai un po' Sì, bot lane, gancabilissimi Eh, passo prima mid Se usa la terza... Sono violenti e sono squishy Ok, le сек 커�to Ok, le��ne pop Comunque Uno Un No Non è alla Ken Con la parte di Kumi Counter Che pedir Non è grande Non è che... Peccato peppio No Poi a mano... Se puoi sì Non c'è il tp e perde molto Deức Adia una quanta vita aveva Perché è sempre Vuò invadere al 2 No Mai qua sono anch'io già giochiamo io rigio in altra prossima messa botti tra poco ce l'ho ok 3 shop e mid sicuramente penso che tornerà bot ok romo mi dà il tp che si chi l'abile lui non ha il flash però la voce rizzando quindi in oscar ma forse ma in due non l'ammazziamo ancora sbaglio diana diana è topside sicuramente ma prende informazioni di vabbè botte ne si gioca botte non dovrebbe avere oddio forse ce l'hanno hanno solo spell vero creon 3 ha presciato hanno guardato polisco non sarà che scoprire non posso ora posso però crash non la crash non è ancora botte ma no diana non è ancora botte però non è ancora penso che puoi contare se vuoi ma è stato il gromp posso rubarlo io ci sono quasi sono quasi in range di carica arriviamo in giro continuate continuate non c'è ma è mai ad attacchi da non fanno male diana sta passando mail sta volendo botte non è esattamente worth it ma lo accettiamo lo stesso no flash driven ha incastato un po' di gold il ragazzo eh diana eccola qua è un problema credo che lo possiamo giustire se è flash o non muoio l'ex host no non avrò diana mid d'occhio ok è frizzato ok da qua anche trash ha la move ok si è possibile trash adesso allora se vuoi venire dopo possiamo provare a fare il coso però non so se da mano a botta o no ovviamente da bottele non credo sia derivabile però molto offside comunque se è derivabile adesso non lo proteggerò sicuro cioè nel senso non cambierà non arrivi, non arrivi, non arrivi bravo bravo senti ammazziamo questo scemo qua vai io stavo andando top lane però capo oddio non dovrei morire nice io sono top lane giochiamo? giochiamo void che dovrei settare no io giocherò i set prima di void fai una cagata ma vengo lo stesso sembra una cagata dici perdiamo tempo non so se è tanto utile però ci va faccio extra scrub alla ulti eh nice minchia scarner che è? possiamo fare i semi attento io non ti invito più torno a botta adesso ok sì 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 lui ora tippa ma mi muovo prima io non può muoversi penso che ci serve il scarner e il roaming indiacale per fare qualcosa ti faccio i tab non so dove fanno se viene lì io non posso mai fai tale abituiamoci che siamo wix ci serve il roaming indiocale qui per fare qualcosa ok fate i midgang in tu in tu c'è anche aere di oh 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 ok forse roba no no romano romano mid lane romano mid lane sono la brutta ok io sono fine miss a bot potrebbe essere qui eh il tipo è qua eh eh c'è lavoro sono al drago noi siamo ancora wix però lì è la r potrebbe fare quello che vuole se riuscite ma io voglio provare a tornare bot da un po' di tempo faccio il red e vengo verso bot non sai che forse vinciamo il pack diamo il 3v2 non sono sicuro dobbiamo killare sicuramente the raven ma con l'arri scarner penso vinciamo c'ho la move sulla bot io qui posso giocare qua diana anche a round eh diana a round non so stand in la jungle 3v3 più a re di panchene arriva arriva sì sì ma lo vinciamo così re di panchene ok io vado su trash posso saltarlo ok ci sono anch'io con la Q ok 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 vabbè posso far finire con l'area ma ingaggio qui ehi attenti vi arriva la ulti cioè può arrivare ulti panchene un bot allora un gioco vuoi frizzare top eeeh cosa vuoi fare fragola tu? ma anything c'è ci sono obiettivi due minuti un shotdown l'ho preso io poco troppo ma vabbè non vuole capanto non è qui hanno un bounce bot devono fare la prossima wave anche e dopo trash vuole resettare vengono mid lane vogliono forse dai vari bot in realtà una bot una bot una bot non c'è nessuno stanno giocando troppo aggro senza ok diane è lì posso usciare questo vento da solo e venire bot non credo che fai in tempo prendiamo la non c'è il bulbo per caso no no panchene mid graven hai la ulti graven ragazzi ok arrivo 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 non so ti stavo andando bot non uso nulla ma questo campione è fortissimo wow ha un sacco panchene Non flash pantheon Non flashato in te E qual è la giocata? Voids, Bruggs? Prendi una placca? Io ho... Played insieme Metto una ward al red buff di arricolare Non so se sto sbagliando, forse si Io ho preso un po' di visione della giungla almeno E Fragolozzo, Voids, Bruggs mi vuoi? Un minutino Ma siamo più forti per v3 però Se match i trash va bene sempre Trash e bot C'è un'altra wave per into plating Vuoi ti fare con Akali? Ti metto la ward, guarda Dove? Ci sono anch'io Non è il 6 Trash fuori posizione E se sono a lanterna Trovo a prendere anche Prendere il jungle dov'è? Brandy dragon Io ho la ulti, ha senso Ho la ulti, no aspetta stai trollando Occhio alla ulti Non ho la r, non ho la r Non ho la r, non ho la r Poi Ma Pantheon eccolo Sì sì Io sono su Pantheon eh Questo mi piace di più Faccio grab Ho la ulti per draven Ho la ulti per draven Hai la trappa? No Ho la r per di no? Potete continuare qua Sì Il package è trash Draven Non l'ho preso Buono Possiamo ancora girare Oddio Ho l'ex host Non avrete paura Occhio al grab di trash Quello vince C'è un grab Ok Ho l'ex host Ah non c'ho l'ex host Ho trovato No ci vedo ma Sopo dal volo Oh no Non posso vincere? Oddio Forse? Nice Ho entrato il crit giusto Apportunatamente Giacciamo un sacco di soldi E sono enorme ora Mi faccio il night's vol? No mi faccio il lockout Anzi io aspettarei in base 50 gold perchè non mi sento di uscire senza il lockout dalla base Mmm Ah di salve invece Ha deciso di salvarti Drago 30 secondi o poi sbrox Entrambi Entrambi Toplane come siamo messi? Vince Ha perso un sacco Attento Perché muoio solo perchè mi annoio Ci sono anch'io Ci sono anch'io Da posso Oh guarda Diana 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 Ok vedo Diana miss a trash Possibile eh Ok trash bot La guardo Diana vuoi che le ingaggio? Devo... devo pushare questa versione di Eh... flash 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 Ok Wow Non ci arrivo Dovete correre bot dopo Nice Ancora un bot Ancora un bot Questa Un lockout Hitanka Scarnel Nice Ulti draven ulti draven occhio No non l'ha usata Ok No non l'ha usata Eh... drago è fattibile Mi sei o no sai? Sì 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 Possiamo Possiamo Mmmmm Faccio un sacco male Eh ma... Boh Mi sembra cringata Avrei fatto la way bot I pip Non ce l'abbiamo Vengono su di voi C'hanno R up Entrambi Ma lo vinciamo con... Se andiamo su trash forse Vai vai Io mi giro quel pazzo Draven eh Non trash ragazzi Nooo L'R l'R Buono Tutto ho raccolato per dare la kill a Creon Certo C'è Pantheon Se volete posso baitare Per me rimane rigridi ragazzi C'ho l'HP Devo besare È nato di lusso eh fra quello Mi arrendo Eh Oh shit Non ti stai arrendendo Stai lottando per l'ultima risorsa sulla map Allora Ci sono... Questa è Diana Ti guardo Guarda Pantheon magari È pulito Guardo per Diana Mmm... Ho il Demerograga per ingaggiare Io sarei un allettante alla Bata Posso andare anche per Diana Diana è meglio Poi Pantheon Ho il Lockez ti salvo Ok Buono Drago È mid È tutto Lo voglio Lo voglio Ok Ci siamo Ma quanto è broken sta cosa Lo grabbo Ho l'Exhost Vado su Draven Eh Ma l'Exhost ragazzi Non si vede più No no Io lo vedevo Lo vedevo Lo vedevo Io non lo vedo Penso di rimanere mid Da adesso Ma lo ha messo su Draven? Sì 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 Draven è messo E' Diana qua Prendere mid tower Prima di rispettare Ti copro ma... Cioè Io mi chiedo il robot e poi il reset E io gioco a Bear Herald Potrebbero farlo loro l'Herald Possibile Diana Dubbito che muoiono Ma Diana è lupi ma ci metterà una vita Posso saltarlo Ah beh però No Diana eh Diana dietro di te Crayon Eh la bot è bot Beh top gap gg No dai no no Niente battuto del genere Perché siamo insicuri Oh cosi Oh cazzo Giochiamo per top play No 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 mettiamoli Ok io non c'ho niente però Ti seguo C'è Diana qua sicuramente Non ha niente esatto No flash no ulti Eh lo lo slovo Va scopato Va scopato Va scopato Va scopato Ho il lockets Ok Oh merda Tipo eh fai tanto No no c'è non vince Occhio allo W Eh non ce l'ho molto la marge E preferisco i Diana due Sto facendo il Ciro Oh shit c'è gente Possiamo Lentamente possiamo Eraldo Sono due giocatori contemporanei sulla mappa Questa è solo Ciro Boyz eh No iniziamo con le bruttabitudine Ci vado o non ci vado Eh vabbè dai stai trollare Ci prenderà quanto sei coraggioso Eh forse un po' più Si inizia così sulla strada del disastro eh Da un primo gioco Opla Ci ho dato tutte le mie No ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Se ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Fa gridere ma fa anche riflettere Che item ti piace Paolo? Boh le cose blu mi piacciono un sacco Ho capito Falla più blu Un po' più blu Set kill labbio Ulti di panthen, occhio abbiamo scavato dietro Io faccio antivirreddolo Io farei prima set poi l'erro Io andavo su set qui Eh io non ci sono Io ci sono Alla wave Ma dove sta? Ma dove è andato? E' sparito è un mago Io sono morto Oh no no Si è salvabile Stavabile Stavabile Ingaggia Pettiamo Finchè l'ho messato Oh ma sono quanti qua eh Giochiamo con calma Sono un e più 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 Con calma Con calma Ho la t2 Non c'è E prendiamo quella E giro più marato In caso No no Dovano andare per la mid wave Ma io prendo un sacco di gold Molto più Andiamo 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 Ragazzi Please calma Ragazzi non c'è driven Farò questo Però ragazzi Sto trollando Eh sì Fragolò Sto trollando Dove io Eh king Questa è Min range king Vabbè non ce l'ha bisogno C'è capitare qua Però abbiamo restato Torre botte Torre mid dunk eh Fort In my Questi voglio prendere la mid tower eh Io ho il flank dietro Me ne sono anche andato Lul A meno che C'è trash Arrabbiato Ma arrivano botti Mi sa Il su trash Ci piace Mi ha perso un sacco di tempo Comunque Ti fanno ignorando Uno al drago Allora ragazzi Un minuto Un drago Benissimo Io giocarei per drake Sì Vado botti Poi i nostri fight Non sono così facili Perché front to back Forse perdiamo eh Eh io devo flankare Di sicuro Ho il nazzo Ma non sa chitarlo Catelyn Per il momento Il drago si è tappato Draven c'ha un po' di X-link qua Possiamo Forcing aggiorare Il rush Vado top o il TP Draven potrebbe morire Ma ce lì no Fuck top Vengo direttamente a piedi Sì occhio Che ulti pantone Sto crashando la bot Che poi sono sul flank 7 è rimasto qui Allora io posso prendere Ora cerco Cerco il flank Per l'engage Ok Potrebbero giocare top Se guarda pantone Potrebbero Vado chi va patrick Andiamo a prendere set Facciamo torre Possibile trash e draven Trash e draven Mid lane Set fuori posizione Forse hanno mid Loro Forse hanno mid Devo chi va a fare mid Ok E giochiamo per T3 Andiamo Possiamo tippare mid E fai dare E facciamo nascere Famone uno Addio madre E di un ai raptor Cosa vuoi fare frago? Chiuderli Chiuderli Tippiamo E fai diamo Dove sono? Pinga Versi nascere Versi nascere Vediamo qua Vediamo qua Vediamo Vai vai Draven 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 Però non abbiamo molti ULTA Sì No prendo tempo Ok Draven 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 Prima che panto ULTA No 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 guys Ilios amigos E buona giornata Noi ha detto Quello prendiamo Nice Ehm No trollante Sono spugnato Qua mi piace invece Diana Hai la ulti Draven 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 Seguo Ho l'exosso su di lui Anche se non lo vedo Ce la fai a solo? Lo grabbo Lo grabbo I'm fine Eeeh Slow Quanto è noi? Quanto è noi? E' una merda si ingaggia Gioca 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 Eh sì Noi siamo bassi Con calma Con calma Andiamo Con calma Con calma Ah Il locket Il locket Ma il grab Non lo prendo Eh mi spiace Non abbiamo danni per Baron Senza che Drake 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 Grazie Va bene Va bene Eh forse non serviamo tutti al Drake Ma io le collo intanto Possiamo prendere anche una waving bot Oh lo dove andare Il tuo danno Penso sia rilevante Penso che sia meglio Che io vado bot E tu top Penso che c'è una per il nascere adesso Non so cosa buildarmi Ma potrebbero lasciare Baron E io Non credo Comunque controlliamo Abbiamo Abbiamo bluetrinket Crown No 10 secondi Eh Draven è mid A posto Eh Draven fa i buchi Pure ti ha I danni li ho Occhio qui trash Possibile Dove restare un attino Scilato un attino Andiamo qui dovevi to A prendere Pigeon Sono terrorizzato Sono tutti al Baron Barron 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 Eh andate Rubala Rubala Posso giocare No no Scarno non c'è Non c'è nessuno No no possiamo 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 Abbiamo tp diacati Abbiamo tp diacati Si può Si può Si può Mi sembra eccessivo Ma va bene Mi hanno visto Quando lo prendo 7 7 sulla mid Anche Draven Draven Bantam Minchia vanno esplose E non siamo tutti ragazzi Perde sempre Posso rigabbare Ma mi serve del supporto Guarda Guarda Dai Dai buone Draven se è possibile Draven se è possibile Eh Draven non muore qua Posso grabare Draven di nuovo Bomba Let's go Ha tirato tu Da destra Draven T'ha cancellato Samor Lo sappiamo Comunque Paolo Stanno giocando Stanno qua gli occhi Da quando è flammato Prima Ma hai trollato tu Basso Ma è vero che stanno giocando meglio loro Ma si stanno giocando meglio loro Abbiamo semplicemente fatto un po' più off-tempo Io sto giocando comunque più colse un guagli occhi Prima dopo che le ho flammazze per questo No ci sta però mi sembrava più carichi di prima Eh meglio no Quindi lo giociamo spesso Occhio a dire Qua stiamo giocando la bottea No caga se ce l'ha fatto Dai so Io vado di frozen Andiamo a botte Ma tutti? Sì 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 Vai 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 Katen ha il mio night tutorial Eh le due noi red Andiamo andiamo botte Qua c'è la loro red Vabbè qui non faccio niente Io sono gigantesco però Secondo me se giochiamo per pilli Invece che per Uccidere la backline Invece che c'hanno tutti mal morti O se vinciamo? Sono d'accordo Ah ci sta Guardate Forza Forza Sto tentando eh Sto signore sta esagerando Posso interrompere No no ok No no Ci siamo al mortis Com'è la situazione botta cari? Oh Sono morto Oddio Ulti draven Ulti draven Guardate Ok Posso ultare Posso exostarlo? L'exostato Ho grabato L'ho grabato Capito Io non muoio Vincere il game Mid lane Scrivili heads Heads più bidoni Ho preso Ho costato 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 Ho il locket E non facevo usare la Niente La soldi Boom È finita? Sì Un attimo che devo spendere Non dovrei morire Mi auguro Lo prendo questa Pantano ci può uccidere Oddio Mi sono caduto Addosso Io non muoio Filiamoli tutti Chi ti ha Chi ti ha Chi ti ha Io non ho molto manovre Draven Draven Bravo Hai tolto La look Hai esoccato male Non è che lo devi Desserti uno Hai detto Ma va a far culo Ho preso 42 Mi sono più grab Oggi Che in tutto L'ultimo mese GG Val play GG 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 Meno male che avevi il locket Cazzo King Ringrazio e bacio per terra Ti onoro Per la tua ottima performance In top lane Ma è l'unico game Da non onorare Da non onorare L'unico game No in realtà top damage Dovete fare silenzio Allora Come tutti i games Perché top Eh perché top Si tratta sempre Cos Sai Madonna Ma tu Se dassero un numerino Sulla vita generata Da set Totale Tra Doran Shield Second wind E passiva Penso che siamo a 8000 E passa Dealing Madonna Più di 8000 Sicuro Metti data Dai che ne facciamo un altro Altre due Aspetta Aspetta Stanno le arene Altre due Altre due Altre due Perché poi devo andare Al cinema Controllate Se non è che ti guardi Garfield Con Dante Let's go C'è Garfield Oddio me lo guardo Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no